NON GIUSEPPE che è più di un anno che il campetto è chiuso, i bambini dovevano ancora aspettare. La prossima volta un biglietto inizia a Dì, venite a Dui. Tu sai che qua la situazione è complicata, quindi mantieni l'equilibrio. Io sono qua per aiutare la bambina e aiutare anche te, ma ti devi fidare di me. Quando si affrontano certi temi bisogna essere certi delle scelte che si fanno. Sicuramente, sicuramente! Ma quando siete venuti in tuo quartiere, mi avete creato solo un biglietto a randello. Ma perché non fate un'indagine? Non alzi la voce, provati, quello che dici non ce ne sono. Per ritrovo la moderazione, l'equilibrio, solo che puoi farlo. Dovete fare solo quello che dovete fare, fate il sacerdote e basta. Dani, ma se vi manco in chiesa a pregata. Stagendo poco a fine fa. Ciao ragazzi, oggi parliamo di alcuni film italiani che vedremo nel 2018. Parto dal 18 gennaio, data in cui uscirà Il Vegetale, con Fabio Rovazzi. Il 25 gennaio tornerà Paolo Virzi con Ella and John, The Laser Seeker, un film drammatico. Sempre dal 25 gennaio vedremo Made in Italy, di Luciano Ligabue. Il 14 febbraio uscirà anche il nuovo film di Gabriele Muccino, L'Isola che non c'è, una commedia corale. Sempre dal 14 febbraio vedremo il film di Alessandro Genovesi, Matrimonio italiano, una commedia con Diego Batantuono. Vi segnalo anche Benedetta Follia, una nuova commedia scritta e diretta e interpretata da Carlo Verdone. Torna anche Francesca Archibugi con Gli Sdraiati, protagonista Claudio Bizio. Metti la nonna in freezer sarà una commedia con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Torna anche Ferzan Ospitek con un thriller, Napoli velata. Paolo Genovese dirigerà Il primo giorno della mia vita. E infine vedremo Loro, di Paolo Sorrentino con Tony Servillo, nei panni di Silvio Berlusconi. Allora, quale aspettate di più? Fatemi sapere nei commenti qui sotto e nella descrizione trovate il link al video con tutti i dettagli, con maggiori dettagli sui film. Ciao da Valeria! Ciao!